Un'iniziativa collettiva del comitato di quartiere, quindi del quartiere, ma come funziona, come è nata questa idea, quante api ci sono innanzitutto? Siamo partiti circa due anni e mezzo fa con due arnie e da lì poi il miele venduto dalle prime due arnie e finanziato le altre due è stata una cosa che ha funzionato da subito, è piaciuta molto e stiamo continuando con questo progetto. Allora adesso complessivamente saremo intorno alle 200.000 api per tutte e quattro le arnie in questo periodo di massima vita dell'alveare che poi vanno calando nel periodo invernale e dopo insomma c'è la ripresa nel periodo primaverile che iniziano i nuovi fiori e le nuove piante e quindi dopo le api devono essere veramente in numero adatto per poter approvvigionarsi del miele, del nettare, del polline e tutto quello che serve all'alveare. Quest'anno quante miele avete? Allora siccome noi non vogliamo esasperare le api e non vogliamo che si stressino troppo facciamo solo un raccolto e in totale abbiamo fatto all'incirca 40 chili, 35-40 chili. Com'è vivere qua? Estremamente piacevole ed estremamente pratico oltretutto e come dicevamo prima poi nasce tutto da un progetto di condivisione quindi le cose vengono fatte, è chiaro che c'è un comitato direttivo che poi decide cosa e come fare però poi tutto questo tipo di iniziative dal miele piuttosto che alla festa del quartiere o alla cena come abbiamo fatto ieri sera poi servono anche a sostenere tutto questo tipo di attività. Però essendo anche un quartiere decentrato immagino che se queste cose non ci fossero sarebbe veramente difficile perché poi i servizi potrebbero esserci o non esserci quindi è necessaria una macchina, altre cose e quindi è fondamentale questo tipo di comunità per una realtà poi così piccola. Quello che ho capito ve ne siete accorti ad esempio nel momento di massima crisi della pandemia? Sì, indubbiamente lì le attività erano iniziate prima, immagino che l'idea iniziale sia stata partorita da Marco e poi ha sposato l'idea della maggior parte dei residenti di questo quartiere quindi ogni cosa che facciamo viene poi anche apprezzata al di fuori di questo quartiere.